Ciao a tutti, finalmente questa sera voglio parlarvi di tipi di tabacco per piga. Prima di tutto una classificazione per come vengono curati. Tabacco air cured viene appeso nei sicatoi ben ventilati e lasciato seccare per circa due settimane. Tabacco fire cured viene appeso nei sicatoi dove pezzi di legno stagionato vengono fatti bruciare, molto lentamente senza fiamma. Tabacco flu cured tradizionalmente veniva legato agli steli della pianta che, a loro volta, erano appesi ad una serie di pali all'interno di particolari sicatoi, dotati di condotti collegati a focolari sterni, in modo da seccare le foglie con un calore senza però fumicarle. Tabacco kintaki Il tabacco aromatico fire cured è una varietà di tabacco dall'aroma molto forte, che si usa principalmente come ingrediente nelle composizioni dei tabacchi listi da pipa . La sua essiccazione è eseguita fumitandolo molto lentamente. Negli Stati Uniti viene coltivato principalmente nel Tennessee e nel Tentacchio occidentali e in Virginia. Quello cresciuto nelle prime due zone è adoperato anche per produrre tabacco da masticare da fiuto e sigarette. Di foglia ampia e consistente è di colore marrone molto scuro, aroma intenso e caratteristico di legno in fermentazione e gusto tipico e pieno. Molto forte è di norma utilizzata nella fabbricazione di sigari tipo toscano, che vengono sottoposte a successiva fermentazione. Nei tabacchi da pipa serve ad aree corpo ed è utilizzato in miscele nei black cavendish, nei trinciati scuri di tipo europeo e a volte nelle English misture. Tipi Moro Curiosità I trinciati italiani più diffusi ed economici sono base di tentati nazionali. Alcuni operatori del settore lo chiamano, lo pronunciano Kentuti. Tabacco Virginia Il tabacco Bright Leaf, a foglia chiara, è comunemente chiamato anche tabacco della Virginia. Prima della guerra civile americana, il tabacco prodotto meglio usa era quasi tutto del tipo fire cured, a foglie scure, e veniva coltivato in fertili pianure usando una varietà della pianta dalla foglia molto robusta. Dopo la guerra del 1812 crebbe invece la domanda di un prodotto più dolce, leggero ed aromatico. In Ohio e Maryland si cominciò così a coltivare una specie diversa, e i coltivatori sperimentarono diversi metodi di essicazione, ma la soluzione decisiva non fu tornata fino al 1839. Da secoli si sapeva che coltivando il terreno sabbioso degli alti piani, islands, si ottenevano piante più piccole e deboli. Il capitano Abitia Slade, della contea di Caswell, nella Carolina del nord, possedeva una certa quantità di terreni scarsamente fertili proprio in quelle zone, e decise di piantargli la nuova varietà di tabacco a foglia d'orana, Golden Leaf. Slade aveva alle sue dipendenze uno schiavo chiamato Stephen, che attorno al 1839 produsse per caso per la prima volta il tabacco a foglia chiara, usando del carbone per riaccendere il fuoco che stava usando per essiccare il raccolto. L'improvvisa ondata di calore fece diventare gialle le foglie. Sfruttando quella scoparta, Slade sviluppò il metodo per produrre il tabacco Bright, ovvero coltivandolo su terreni poveri di nutrimento ed utilizzando il carbone durante l'essiccazione. Slade rivelò la scoparta anche ad altri agricoltori locali, ed in breve tempo i terreni infartili e sabbiosi della zona ai piedi di Chiappalachi, diventati redditizi, videro aumentare il proprio valore di 20 e 30 volte. Possiede un aroma proprio, spiccato e inconfondibile, penetrante e vagamente fruttato. Di sapore dolce caratteristico, offre una combustione piuttosto rapida e tende a pizzicare la lingua, fenomeni ridotti nelle versioni trattate. È un tabacco caratterizzante ed è presente in quasi tutti i tipi di miscele da pupa. Tipicamente inglesi, gli straiti Virginia, miscele a base di Virginia più o meno puri, generalmente passati. Durante la guerra civile a Dunville, in Virginia, che era la principale stazione ferroviaria sulla linea che portava i soldati confederati al fronte, stroava il mercato del tabacco Bright Leaf. I soldati portarono con sé questo tipo di tabacco e se lo scambiarono l'un l'altro, contribuendo a diffondere l'abitudine al sapore di questo prodotto e creare per esso un mercato base nazionale. Dopo la guerra, risultò che le contelle di Caswell e Pitt Silvegna erano state le uniche a vedere aumentare il proprio benessere e la propria ricchezza. Appartenente alla classe Flu Cured, tabacchi curati d'aria calda, è un tabacco a foglia ampia e generosa, di colore dal giallo limone al marrone scuro, a seconda del grado di marronamento delle foglie. Se sottoposto a trattamenti particolari, dopo la cura e la stagionatura, ad esempio con l'aggiunta di zuccheri, pressione e cottura, può presentarsi molto scuro, addirittura nera. Virginia Black Stoward Tipi Bright Virginia, Carolina, Old Belt Virginia, Lemon, Golden, Red, Brown, Dark, Mocklegue. Curiosità Veve il nome a Sir Walter Rive, che a metà del XVI secolo, vide il nome al vasto territorio che aveva scoperto e al generoso frutto che produceva. Tabacco Barley Nel 1860, un coltivatore dello stato dell'Ohio, riscontrò nelle sue coltivazioni di Kentucky tobacco, alcune piante che differivano sensibilmente per il loro aspetto e per la qualità del tessuto. Al saggio, questa differenza si estendeva all'aroma del gusto, più fine e gradevole. Furono se ne adizionate le piante, che presentavano più marcati questi caratteri differenziali, ed allora si coltivò questa speciale razza negli stati dell'Ohio e del Kentucky, Red Barley. Nel 1864, George Webb, un coltivatore della contea di Brown, in Ohio, piantò i segni della varietà Red Barley che aveva acquistato, e quando spuntarono, notò che alcune piantine avevano un aspetto biancastro e malaticcio. Le trapiantò ovviamente nei campi, e queste finirono per svilupparsi comunque, mantenendo però il loro colore molto chiaro, maturando circa 15 giorni prima delle altre. Una volta essiccate, le foglie presentarono una fibra estremamente sottile, e il loro proprietario le presentò come una curiosità alla fiera di Cincinnati. L'anno seguente Webb decise di coltivare 40.000 m2 di terreno con i semi di queste particolari piante, e la sua audacia fu premiata all'asta dei raccolti. Si vide che, una volta trattate, queste foglie avevano un sapore dolce e possedevano capacità di assorbimento maggiore rispetto a quelle delle altre varietà. Il White Barley, tabacco bianco sottile, diventò così il principale ingrediente sia del tabacco da masticare che delle misture da pipa e sigarette. Attualmente il prodotto è chiamato quasi sempre soltanto Barley, dato che il Red Barley, una varietà foglia scura coltivata a metà del XIX secolo, non viene più prodotta. Tabacco Light Eye Cured, classe a cui appartiene anche il Maryland, è un tabacco di colore dal marron chiaro al bruno rossiccio. Di consistenza leggera e buona combustibilità, non possiede un gusto o un aroma particolarmente spiccati, ma si presta bene a portare gli aromi aggiunti per la spugnosità della foglia. Utilizzati largamente nelle miscele aromatizzate, è di norma sottoposto i più diversi trattamenti. Concio con liquidi zuccherini ed aromatici, pressione, riscaldamento, tostatura, flowering. Quando il trattamento è leggero, dà certo un gusto di noce, lacchi. Ogni presente nelle miscele di gusto americano, olandese e danese. Tipi White Barley, Kentucky Barley, Broad Leaf Barley. Curiosità Deve il nome a Lord Barley, ricco proprietario inglese di terre sulle rive dell'Ohio. In realtà furono i suoi contadini, profughi dalla Virginia e dal Maryland, a notare diverse caratteristiche assunte dal tabacco, portato dai luoghi d'origine, e piantato in terreni e climi diversi, come appunto l'Ohio. Cresce anche in Tennessee e South Carolina. Tabacco Shade Non molti sanno che anche lo stato del Connecticut, che si trova nel nord degli Stati Uniti, è un'importante area di cultivazione di tabacco. Molto tempo prima che gli europei arrivassero nella zona, i nativi raccoglievano le piante di tabacco selvatico che crescevano lungo le sponde del fiume Connecticut. Oggi la vallata di questo fiume, che si trova a nord di Hartford, è nota come Tobacco Valley. La varietà che cresce qui è nota come Shade Tobacco, tabacco scuro, e le sue foglie vengono usate per avvolgere alcune delle migliori qualità di sigari del mondo. I primi coloni a raggiungere Necolmettica impararono dai nativi l'abitudine di fumare la pipa ed iniziarono a coltivarlo per scopi commerciali, nonostante i puritani si riferissero ad esso come all'erba del diavolo. La pianta fu dichiarata fuori legge nel 1650, ma nel XIX secolo, quando il consumo di sigari diventò molto popolare, la coltivazione di tabacco si trasformò in una fonte economica molto importante, che dava lavoro ad agricoltori e braccianti, sia locali che emigranti. Oggi questa pianta fornisce al massimo 18 foglie, adatte ad essere usate per avvolgere i sigari, e la loro raccolta e lavorazione richiede una grande cura ed abilità manuale. Nel 1921 la produzione di tabacco nel Connecticut raggiunse al suo massimo una superficie coltivata di 125 km2. La crescita del consumo di sigarette, con il conseguente callo di quello dei sigari, ha causato un crollo della domanda di questo tipo di tabacco, che ha raggiunto il minimo nel 1992, con solo 8 km2 coltivati. Da allora il consumo di sigari sta ritornando di moda, e già nel 1997 la superficie coltivata era raddoppiata. Terrick Il tabacco caratterizzato probabilmente dall'aroma più forte è il Terrick, originario di St. James Parish, in Louisiana. Quando gli Accardiani arrivarono nella regione nel 1755, le tribù dei Ciottua e dei Ciccio coltivavano una varietà di tabacco da sapore molto particolare. Si attribuisce ad un coltivatore di nome Pierre Chanet, dal cui nome la parola Perrick, il merito di essere riuscito per primo, nel 1824, a trasformare questa varietà locale nel Perrick per mezzo di una tecnica di fermentazione pressurizzata. Curiosità Si può pronunciare Poeric o Perrick all'americana o in francese. Deve il nome a Pierre Chanet, che lo scoprì in Louisiana, dove cresce in una zona ristretta a sud di New Orleans. Perrick era il vegetativo spagnoleggiante del francese Pierre. Lo sviluppo delle piante viene impedito manualmente e vengono potate appena cresciute fino a lasciar loro soltanto 12 foglie. Alla fine di giugno, quando le foglie hanno assunto una colorazione di un intenso verde scuro e le piante hanno raggiunto un'altezza di circa 75 cm, le piante vengono raccolte intere a tarda sera ed appese a seccare un essiccatoio aperto ai lati. Tabacco tipico è in origine un tipo di barley. Quando le foglie si sono parzialmente seccate ma sono ancora elastiche, generalmente restano appese meno di due settimane, vengono pulite, inumidite e staccate dal gambo. Vengono poi arrotolate in mazzetti di circa 450 g di peso e pressate in barili da whisky di noce americana. Il tabacco a questo punto viene tenuto sotto pressione usando ceppi di legno e di quarcia e grosse morse, spremendo fuori tutta l'aria dalle foglie ancora umide. Circa una volta al mese i mazzetti vengono estratti e maneggiati affinché un po' d'aria penetra nuovamente nel tabacco. Dopo circa un anno di questo trattamento il per ricche è pronto per il consumo, sebbene possa anche restare sotto pressione per vari anni senza perdere in freschezza. Il prodotto finito risulta di un marrone molto scuro, quasi nero, molto umido e con un aroma fruttato dal vostro sentore di aceto. Considerato il re dei tabacchi da pipa, il per ricche è adoperato come ingrediente di molte misture, ma è troppo forte per essere fumato puro. In passato c'era anche l'usanza di masticare il per ricche fresco, ma questa appitudine è ora scomparsa. Attualmente sono dedicati a questa produzione meno di 65 mila metri quadrati di terreno, quasi tutti proprietà di un singolo coltivazione di Grand Point in Louisiana, in quanto, per ragioni ancora sconosciute, questo tabacco può essere prodotto con successo solo in una zona di territorio ridottissimo. Presentato in piccoli frammenti, ha gusto proprio caratteristico, con aroma intenso e penetrante e sapore lievitato. Molto forte e di scassa combustibilità, è di norma aggiunto in modeste proporzioni in miscele di gusto americano ed inglese. Tipico ed eccellente il connubio con Virginia puri pressati. Tipi San Gen Perisci, Lusana Pericca. Tabacco orientale Il tabacco orientale, o turco o levantino, è una varietà dalle foglie piccole che viene coltivato in Turchia, Breccia, Bulgaria e Macedonia. È spesso chiamato tabacco turco, dato che tutte queste regioni in passato facevano parte dell'impero ottomano. Viene generalmente essiccato esponendolo al sole, San Chiuret, ed è caratterizzato da un aroma intenso, gusto erbaceo e delicato, e di ottima combustibilità. I primi tipi di sigaretta, a passi sul mercato, erano composti interamente di questo tipo di tabacco, mentre ai giorni nostri viene usato in misture sia per la pipa che nelle sigarette. Utilizzati tipicamente in camben di schiari, miscele di gusto olandese e trinciati di tipo europeo, trovano il loro antico caratteristico nelle English Misture insieme ai Virginia e la Tatia. Una tipica sigaretta americana è fatta dalla mistura di Bright Virginia, Barley e Oriental. Tipi Santi Macedonia Yengi Sam Sun Smirne Peruzzi Giubici La Tatia La Tatia La Tatia è un tipo particolare di tabacco orientale, a foglia piccola, coltivato lungo la costa siriana e oggi quasi esclusivamente nell'isola di Cipro. Prende il nome della città siriana di Laodicea, la Tatia. La lavorazione comporta una fumicatura a fuoco diretto di essenza aromatica delle piante intere e fa sì che il colore delle foglie assuma tonalità che vanno dal bruno grigiastro al nero. Di gusto dolce e leggero, leggermente stucchievole, non è adatto ad essere fumato da solo, né per essere usato nella fabbricazione di sigarette e di sigari, salvo rarissime eccezioni. Contribuisce a rallentare la combustione, anche per la massiccia presenza di piccoli frammenti ligni. Le foglie non vengono sottoposte a scostolatura. E' invece molto usato come componente aromatizzante nelle miscele di tabacchi per pipa, grazie alla carica aromatica molto intensa e gradevole e anche grazie all'ottima capacità di legare bene con altri tabacchi, conferendo carattere alle miscele. In particolare, entra come componente essenziale nelle cosiddette miscele di stile inglese. La classica miscele inglese è formata all'incirca dall'80% di Virginia, dal 15% di orientale generico e dal 5% di latacchi. Fornisce corta e rotondità alle miscele da pipa, contribuendo in modo decisivo a caratterizzare il gusto delle English Mistel, ovvero utilizzate in misura più o meno notevole e nelle due varietà conosciute, siriana e cipriota. Presente, ma in misura inferiore, anche in miscele di gusto americano o olandese. Tipi Sirian Latakia, Ciprian Latakia Curiosità Secondo alcuni, sarebbe stato scoperto addirittura in Cina, verso la metà del 1800. La tradizione vorrebbe le foglie fumicate su fuoco di legna di quarza asiatica ed erbe aromatiche. Facendo eccezione rispetto agli altri tabacchi di cui si usa solo la foglia, nell'attacchia si usa anche gambo e nervature. Tropicale A questa classe appartengono tutti i tabacchi Dark Air Cured, scuri curati ad aria. Di colore dalla vanna al marrone molto scuro, si presentano in foglie di diverse dimensioni, consistenza e origine, e sono di norma sottoposti a processi di fermentazione, in massima nella fase di cura. Utilizzati per lo più nella produzione di sigari, hanno buona combustibilità, aroma e gusto caratteristico intenso di sigaro. Nei tabacchi da pipa conferiscono corpo e retrogusto, contribuendo a completare ed arricchire il gusto delle miscele. Utilizzati per lo più in trinciati scuri di tipo europeo, francesi, svizzeri, italiani, non mancano in quelle di gusto olandese, e si trovano qualche volta aggiunti in miscele di tipo inglese. Tipi Siga Reef Beneventano Brasile Paraguay Havana Sumatra Java Cavendish Indicato come ingrediente moltissime miscele da pipa, soprattutto tabacchi di gusto americano, olandese e danese, potrebbe essere scambiato per una particolare classe di tabacco. In realtà si tratta di un tipo di miscela sestante, già di per sé completa. Composta in genere da quantità variabile di Virginia, Barle e orientali, i chiari, e con l'aggiunta eventuale di Kentucky, per i black, la miscela viene preparata sottoponendola ad un processo di dolcificazione, con melassa, miele, cilopo d'acero o altro. Con una prima aromatizzazione al cacao, alla cumarina, poi a tutti e due e altro, e di maturazione sotto pressione. Le operazioni successive possono comprendere una fase più o meno spinta di cottura e o fermentazione, il black Cavendish, che toglie il pizzicore dei tabacchi chiari e un po' della forza di quelli scuri, rendendo il gusto più liscio e rotondo. Come tocco finale è molto frequente un'aromatizzazione a base di essenze naturali o artificiali alla frutta, o altro. Curiosità. Prende il nome da Lord William Cavendish, che lo creò nel 1690. Bene, ora vediamo una breve classificazione delle miscele da pitta. American Blend, tabacchi di gusto americano. Caratteristica principale di questa classe è la costante presenza di barley, il taglio granulare, o quadrato, e la più o meno accentuata aromatizzazione. American Traditional, classici americani. Miscele diverse, complesse e classiche, tipicizzate nel taglio, cube o crisp cut, e nell'aroma, comprendente vari tipi di tabacco, ma sempre con presenza più o meno importante di barley, spesso con perric e qualche volta con le attacchi. American Mixture, miscele americane. Miscele tipicamente a base di Virginia e barley, chiari, in proporzioni equilibrate, abbastanza profumate e delicate. Modern American Mixture, miscele americane moderne. Miscele molto profumate, a base di Black Cavendish e Virginia Ribbon Cut, con l'aggiunta spesso importante di barley tostato a doppia fermentazione. English Blend, tabacchi di gusto inglese. A questa classe appartengono tabacchi molto diversi, ma comunati da una lunga tradizione, che li vede fedeli a se stessi da secoli. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'acquisizione più recente è proprio la categoria delle cosiddette EM, molto radicata anche l'abitudine di aromatizzare, anche pesantemente, i tabacchi pressati. English Traditional, pressati inglesi. Tipici tabacchi pressati, flake, plug, twist, aromatizzati e non, a base di Virginia, a diversi gradi di maturazione e con eventuale aggiunta di altri tabacchi, ma spesso anche a base di Kentucky. English Mixture, miscele inglesi. Miscele naturali a base di Virginia, orientali e Latakia. Modern English Mixture, miscele inglesi moderne. Miscele naturali a base di Virginia, orientali e Latakia, con l'aggiunta di Black Cavendish più o meno aromatizzato. Continental Blender, tabacchi di gusto europea. Miscele formate da molti tabacchi diversi, di taglio fine, aromatizzati o meno, prodotti quasi tutti in Europa continentale, anche se con le dovute differenze. Dutch Mixture, miscele di gusto olandese. Il tipo olandese si distingue per la classica forte aromatizzazione alla pumarina e per la presenza di tabacchi tropicali e Latakia, tutti di importazione. French Mixture, miscele di gusto francese. Il tipo francese piuttosto forte per la presenza importante di tabacchi scuri nazionali può presentare una leggera aromatizzazione ed è di norma sottoposto a un processo di tostatura che lo caratterizza. Italian Mixture, miscele di gusto italiano. Miscele di tabacchi in prevalenza scuri totalmente naturali e di produzione locali. Cavendish, i tabacchi a base di Cavendish, procedimento di origine inglese, sono trasversali alle tradizioni locali e investono sia l'America che tutto il nord Europa. Plain Cavendish, tabacchi di puro Cavendish. Classico golden o black Cavendish, variamente aromatizzati in formato ready rapid. Cavendish Mixture, miscele a base di Cavendish. Miscele sempre molto aromatizzate a base di Black Cavendish e Virginia Ribboncut prodotte in tutti i paesi. Virginia Mixture, categoria esistente anche se con rari rappresentanti, è costituita da trinciati più o meno fini, a base di Virginia, con eventuale aggiunta di altri tabacchi in misura non determinate, aromatizzati o no. Bene, questo è tutto, spero che vi sia stato chiaro, arrivederci a tutti, alla prossima.